La Nissa prepara la prossima partita casalinga contro il Castellammare, prevista domenica prossima al Tomaselli alle ore 15. Impegno importante per i biancoscudati, reduci dalla sconfitta sul campo della Mazzarese, la quarta nelle ultime cinque partite. Adesso i nisseni hanno assoluta necessità di punti per allontanarsi dalla zona play-out. Sono sette le lunghezze che dividono la Nissa dal quintultimo posto, occupato proprio dal Castellammare. I trapanesi arriveranno a Caltanissetta con un solo obiettivo, puntare all'intera posta in palio, proprio per ridurre il margine di svantaggio nei confronti della sest'ultima, la Leonfortese, a quota 23, e della Nissa, una posizione più avanti in condominio con l'oratorio marineo. Una situazione non proprio esaltante, nella quale la Nissa si è ritrovata col passare delle domeniche, caratterizzate da una sfilza di sconfitte, interrotta solo dalla vittoria sull'ultima in classifica, la Parmonval. Adesso i tifosi sperano in un successo che riporti la squadra in una posizione più tranquilla. Intanto, proprio oggi, l'Enna ha battuto la Don Carlo 2-1 al generale Gaeta, balzando in vetta la classifica a quota 51. Con due punti di vantaggio sull'Akragas, i gialloverdi credono fermamente nella promozione in Serie D. La classifica aggiornata